è giusto cominciare col distinguere la democrazia degli antichi da quella dei moderni. Quella degli antichi considerava il popolo, la democrazia vuol dire il potere del popolo, considerava il popolo come una parte che si contrapponeva a un'altra parte della città, cioè la parte dei molti e dei poveri che si contrapponevano ai pochi ricchi. La democrazia moderna invece è sempre il potere del popolo, ma considera il popolo la totalità dei cittadini. Detto questo, la democrazia moderna è un modo di presentarsi della politica moderna. La politica moderna si segnala per alcune caratteristiche fondamentali, cioè di essere una politica centrata sopra l'idea che il nucleo, il cuore della politica siano gli individui e che la politica sia una dimensione di ordine che deve essere costruito dagli individui stessi attraverso l'esercizio della ragione. Dentro questo ordine costruito attraverso l'esercizio della ragione, che dunque è una ragione tanto individuale quanto collettiva, dentro questo ordine poi ci sarà spazio per il movimento, per l'esplicarsi di una razionalità un po' diversa, cioè di una razionalità che è soltanto individuale, fondata sulla ricerca dell'utile. Detto in un altro modo, l'obiettivo è quello di creare una forma politica che possiamo definire stato, dentro il quale gli individui possono perseguire le proprie attività economiche. La differenza fondamentale fra questa politica moderna e la politica della tradizione è che questa politica moderna non ha bisogno, non può più, e quindi cerca di non averne bisogno, non può più fondarsi sopra un insieme di credenze condivise. È una politica artificiale. Naturalmente dentro questo artificio si cerca di riversare una discreta quantità di sostanze ideologiche per rafforzare questo artificio. Una fondamentale è la natura e dunque si dice da un certo momento in poi lo Stato in realtà non è il prodotto di un contratto fra individui, ma è la forma politica di qualche cosa che lo precede, cioè la nazione che, come capite, ha la stessa etimologia di natura. Oppure è un altro mito che viene adoperato per dare un po' di robustezza all'edificio che è comunque artificiale della politica moderna, il mito della classe o quello che volete. Allora, la democrazia è, dicevamo, un modo di presentarsi della politica moderna. Che cosa è necessario perché ci sia democrazia moderna? È necessario che ci sia certamente l'idea che la politica è il prodotto della ragione umana e dunque il grande nemico è l'autorità. L'autorità, cioè un potere che afferma di non aver bisogno di rendere conto di se stesso. Un potere che si fonda su se stesso, il potere del re per grazia di Dio, il potere della Chiesa, qualunque forma di potenza. Allora, dunque, la democrazia ha bisogno dell'idea moderna che la politica sia un artificio razionale, ma ha bisogno anche sostanzialmente, sul profilo materiale, ha bisogno che l'esercizio politico, l'esercizio della politica sia veramente a disposizione di tutti e non soltanto della ristretta elite borghese che ha sistemato i conti con l'antico regime, che ha fatto le rivoluzioni, che si è liberata dall'autorità della Chiesa, ma certamente ha prodotto degli stati che sono stati di diritto, ha prodotto degli stati che sono stati liberali, ma che non sono stati democratici. Cioè, sono stati dove, ad esempio, il diritto di voto è ristretto ad una molto piccola minoranza, sono stati in cui le differenze sociali, economiche, culturali sono grandissime. Pensiamo all'Italia appena formata, all'Italia per tutto il periodo che va dalla formazione unitaria fino alla Prima Guerra Mondiale, stati che certamente hanno dentro di sé una matrice moderna, una matrice liberale e tuttavia non sono stati democratici. Dentro quegli stati si sviluppa, nella sua fase iniziale, l'attività economica del capitalismo ed è l'attività economica del capitalismo che produce la democrazia, non direttamente, non direttamente, ma nel senso che il capitalismo trasporta grandi masse di persone dalla campagna, dalla terra, da condizioni di lavoro non dinamiche, non dinamiche, li trasporta nelle città, nelle fabbriche, dove invece non si viene per nulla trattati bene e tuttavia si comincia ad avere la percezione della innaturalità e dunque della modificabilità, della modificabilità delle condizioni sociali ed economiche. Mentre invece è tipico della cultura tradizionale pensare che le condizioni sociali ed economiche sono tali per natura e sono non modificabili. Nasci contadino, muori contadino. Il fatto che ci sia il signore che possiede il latifondo è un fatto naturale. Ecco, quando il contadino viene portato via dalla campagna e portato dentro la fabbrica, comincia a capire, anche perché c'è al tempo stesso la predicazione socialista, comincia a capire che la condizione per cui c'è un padrone e un lavoratore salariato è una condizione reale, ma non naturale. È una condizione storica che può essere modificata dall'azione politica. Naturalmente, davanti a questo status di cose, la reazione borghese può essere di chiusura, e sarà il pensiero conservatore, oppure sarà una reazione più aperta, più progressista, e sarà il pensiero borghese riformista, democratico. Tuttavia, ecco, l'idea di fondo della democrazia è la politica è opera dell'uomo, e dunque è modificabile, non è come tale, voluta da Dio, né dalla natura. Questo concetto moderno nella democrazia diventa un concetto materiale, cioè possiamo cambiare le cose. Naturalmente, tutto ciò, possiamo cambiare le cose, non è sufficiente perché le cose cambino, o comunque sia perché cambino nella direzione auspicata. L'Europa non riesce a diventare democratica, in quanto Europa. Certamente, dalla fine dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale, si pongono le condizioni per una importante democratizzazione delle strutture degli stati liberali, certo. In Italia pensiamo all'età giolittiana, In Germania pensiamo alla stessa opera di Bismarck, che dopo tutto introduce le assegurazioni sociali e il suffragio maschile, universale. Eppure la democrazia non sfonda, non sfonda e viene al tempo stesso travolta e resa necessaria dalla Prima Guerra Mondiale. Travolta perché la Prima Guerra Mondiale non è certamente una guerra democratica, né nelle sue origini, né ovviamente nel suo svolgimento. Eppure viene resa necessaria, perché la Prima Guerra Mondiale è una guerra di mobilitazione universale delle società. In concreto, le società, le masse umane, già portate dal capitalismo dentro il processo politico, le masse umane nella Prima Guerra Mondiale vengono portate in trincea, vengono armate, vengono portate alla morte. I sopravvissuti, i morti sono tantissimi, ma molti di più sono i sopravvissuti, i sopravvissuti non possono tornare alla condizione precedente. Non è una restaurazione della belle époque, è possibile. Se non che il passaggio dallo Stato liberale monoclassico, cioè dove comandava una sola classe, la classe borghese, allo Stato delle masse, che è quello che si rende necessario dopo la Prima Guerra Mondiale, quel passaggio non lo fanno le democrazie, lo fanno il fascismo da una parte e il comunismo dall'altra. L'impianto delle liberal-democrazie ottocentesche che si erano trascinate fino al Novecento, quell'impianto non regge l'ingresso delle masse nel circuito sociale e politico. Ripeto, un ingresso che era stato determinato prima della guerra dall'enorme sviluppo del capitalismo e durante la guerra dalle esigenze militari. Le liberal-democrazie muoiono, muoiono in modi diversi, in tempi diversi, muore anche lo zarismo che non era per niente una liberal-democrazia, e le masse nel Novecento, dopo la Prima Guerra Mondiale nel Novecento, le masse sono masse gestite, organizzate da forze politiche non liberali. In Russia comuniste, in Italia fasciste, in Germania c'è una bella, breve, molto breve parentesi democratica, la Repubblica di Weimar, che vive una vita brillante intellettualmente e stentata politicamente, viene travolta, non regge la crisi del 29, e la Germania, cioè il paese più evoluto d'Europa, non riesce a far vivere una democrazia. Nel 33, come sapete, la Germania cade nelle mani di un abile criminale politico che se la prende tutta, sostanzialmente. Se noi guardiamo l'Europa, se noi guardiamo l'Europa, nel 1939, l'ultimo giorno d'agosto, l'ultimo giorno di pace, vediamo che in Europa le democrazie sono la Svizzera, che è una democrazia di risulta, cioè la Svizzera serve a tutti e quindi nessuno la tocca, però ha un impianto fortemente oligarchico. Sono la Svezia e la Norvegia, cioè paesi d'area assolutamente eccentrica e sostanzialmente esterni alla politica europea. Era democratica la cecoslovacchia, ma nel 1938 e il 1939 finisce la propria esistenza politica. È democratica la Francia sull'orlo del collasso, nel senso che la Francia è democratica, certo, ma è, come si vedrà, a partire dal 1940, è pronta a essere uno stato fascista anch'esso, o comunque uno stato pesantemente tradizionalista. Ricordiamo sempre che la Francia è il paese più di destra che c'è in Europa, dove c'è una destra potentissima perché è il paese in cui è stata fatta la grande rivoluzione, cioè dove è nata il radicalismo moderno e a tempo stesso è nato l'antiradicalismo. La Spagna è caduta nell'aprile del 1939, Madrid viene presa dalle truppe di Francisco Franco, l'Italia lo sappiamo, la Grecia è una dittatura fascistoide, anche se l'Italia le dichiara guerra, non è che la Grecia è democratica per il solo fatto che l'Italia le dichiara guerra. La Polonia a cui la Germania fa la guerra a partire dal 2 di settembre è un regime di destra, ripeto, non basta essere aggrediti da un paese di destra per potersi definire di sinistra. La democrazia non c'è in Europa e a seconda di come poi sarebbero andate le vicende militari, l'Europa sarebbe stata un'Europa comunista o un'Europa nazista.